ciao a tutti mi chiamo Iris e voglio iniziare questa nuova avventura con voi quindi questo nuovo percorso e spero che mi sopporterete e sopporterete in ogni mia avventura o nostra avventura e adesso mi presento vi dico un po di cose allora mi chiamo Iris ho 14 anni faccio la prima superiore e frequento un tecnico economico linguistico e come scuola quella che ho scelto io mi piace molto abito in Veneto e ho un cane che si chiama Kira che ha quasi tre anni ho una sorella più piccola di me che ha nove anni si chiama Matilde e ho molte passioni ad esempio uscire con gli amici fare festa andare a fare shopping e anche appunto fare video e una cosa che amo sono le borse e anche i vestiti tutti i prodotti make up i tacchi le scarpe e adesso vi dico un po che video pensavo di portare ma ovviamente nei commenti lasciatemi qualche idea o che video vorreste vedere sul mio canale come video avevo pensato a dei vlog quindi vi porto con me magari vado a fare shopping oppure un giorno esco così e oppure degli hall degli hall come volete dire perché appunto mi piace molto il shopping a me e altri video insomma magari vi faccio vedere la mia morning routine rom tour insomma fatemi sapere che video vorreste vedere e e pensavo ovviamente vedo se riesco perché appunto devo con lo studio e altro però volevo pubblicare due video a settimana e sarebbe uno martedì e uno giovedì e per l'orario pensavo per le tre ovviamente dopo bisogna vedere se voi riuscite a vederli insomma e se io mi trovo bene con gli orari anche dello studio e nulla per oggi concludo qua questo primo video spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto questo video mettete like al video iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per non perdere il prossimo video che sarà giovedì questo che viene un bacio